Pescara in pole per ospitare la tappa abruzzese del Giova Beach Party. Dopo che il prefetto ha bocciato l'evento previsto per il 17 agosto a Vasto per motivi di sicurezza, l'amministrazione di Pescara si è subito mossa per organizzare il concerto di Lorenzo Cherubini. Sappiamo che hanno lavorato bene e lavorato tanto per ospitarla, purtroppo per motivi burocratici questo non è potuto accadere. Pescara si è solo fatta avanti per cercare di mantenere l'evento nella regione Abruzzo sostanzialmente. Io già da ieri ho preso contatti con il manager di Giovanotti sostanzialmente. Bisogna innanzitutto ipotizzare una possibile data alternativa. Questo chiaramente non compete a me ma compete allo staff del cantante che a breve mi faranno giungere delle date che per loro potrebbero essere adatte per svolgere il concerto qui a Pescara. Pescara dal canto suo deve mettere a disposizione la logistica. È la prima problematica da risolvere e trovare uno spazio adeguato. Noi già abbiamo individuato un'area che è quella della ex Madonnina, però quell'area va ampliata. Di certo per questioni logistiche non potrà tenersi a cavallo di Ferragosto, ma presumibilmente se arrivasse il sì di artista e prefetto si svolgerà a settembre. Siamo stati disponibili fin dall'inizio noi. Quindi lo saremo ancora, vogliamo che Pescara rinasca anche sotto questo profilo e speriamo che, perché ce l'auguriamo, settembre, perché no? La prima decada di settembre sarebbe perfetto, considerando tutto il lione, certo, considerando il tutto, ovviamente. Rimane aperta la questione ambientale. Il concerto di Vasto è stato annullato da tutti gli addetti alla sicurezza per motivazioni legate ai levi di fuga, a rischio alluvione e ai mezzi di soccorso, ma gli ambientalisti denunciavano anche il conseguente inquinamento della spiaggia, i danni causati dalle circa 40.000 persone previste e la moria di pesci causata dallo spianamento del fosso marino. Il fosso marino è un'area a rischio idrogeologico molto rilevante, ufficialmente, e quindi gli stessi carabinieri hanno detto ma come si fa a portare 30.000 persone su un fosso che avrebbero dovuto tombare, su un fosso che può dare rischi di alluvione molto così seri. Poi si aggiungono ulteriori problematiche relative alla sicurezza, parcheggi, vie di fuga, la statale 16, insomma una serie di problematiche che da subito dovevano far pensare di non vendere biglietti fin da dicembre senza avere tutte le attualizzazioni. Se la manifestazione si dovesse tenere alla Madonnina di Pescara, le associazioni si dicono pronte a tornare sulle barricate. Quella è una zona, infatti, dove vivono specie protette da leggi regionali. Certamente se la propongono alla Madonnina faremo anche lì le barricate perché lì ci sono specie protette, c'è il giglio di mare, una specie protetta da una legge regionale. Io spero che si rendano conto di non riplicare il problema che già c'è stato a vasto. Ci sono altre aree, se sceglieranno quelle dove non ci sono criticità ambientali, nulla questo, diciamo così, nel senso che anzi saremmo pure contenti, ma se invece vanno alla Madonnina avranno gli stessi problemi che hanno avuto a vasto.